L'Expo 2020 Online rimette al centro l'importanza di una connessione di rete efficiente e veloce per la Val Fontanabuona. Lo ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Atanasio, durante l'inaugurazione del 36esimo Expo Fontanabuona a Tigullio, che si è svolta sabato pomeriggio nel piazzale San Lorenzo di Calvari. Portare internet a banda larga in tutta la valle aiuterebbe le aziende a migliorare in visibilità e fruibilità, diventando accessibili potenzialmente da ogni parte del mondo. Alle aziende del nostro territorio serve un'accessibilità in un senso lato, strade, tra queste il tunnel in via principale, ma soprattutto banda larga e territorio. Territorio vuol dire anche cura e dimensionamento del fiume. L'Expo Online è stata una risposta necessaria alle disposizioni anticontagio, che hanno reso impossibile allestire gli stand nel piazzale di Calvari. Un modo di fare promozione che potrebbe attirare e far conoscere le aziende anche ad un'utenza diversa da quella che tradizionalmente partecipa ad Expo. Abbiamo un nuovo modo di vivacizzare e esportare le nostre aziende e le immagini delle nostre aziende sui mercati. Abbiamo avuto dei buoni scontri, abbiamo già migliaia di contatti e quindi quest'anno Expo Fontanabuona a Tigullio, in versione virtuale, sta dando già i buoni frutti. Sulla piattaforma online non solo è possibile conoscere le aziende e i loro prodotti, si possono anche prenotare visite in presenza o avere informazioni sugli eventi collaterali che si svolgono in varie sedi della Fontanabuona fino al 13 settembre, data di chiusura dell'Expo 2020. Sulla piattaforma online non solo è possibile conoscere le aziende che si svolgono in varie sedi della Fontanabuona fino al 13 settembre, data di chiusura 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 di chiusura. Grazie. Grazie.